Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo sulla Minecraftita quinta stagione insieme a Bisolo Ma ciao! Ciao Bisolo, ma tu hai... che cazzo c'hai sopra? Cosa? Abbassami un po' la musica Bisolo L'avevo detto che era alta, mi sembrava alta Allora ragazzi, però c'è stato l'attacco, carino Allora ragazzuoli, io e Bisolo siamo qua perché questo non è Minecraftita ma è Freepixel È Freepixel in una modalità assurda, prima in Italia di sicuro Totalmente vanilla, esatto, totalmente, ma proprio non c'è un plugin che uno raga, è tutta vanilla questa Ringrazio Bisolo perché l'ha settata pressoché lui, interamente E io ringrazio Mamo e tutte le sue ore di lavoro invece per settare Barbunz Barbunz, esatto Grazie, il tullo su cui ci appoggiamo Bene ragazzuoli, cosa... vi ho spiegato nel video scorso effettivamente che cosa sarebbe stata questa serie Quindi non perdiamo tempo, io e Bisolo ci mettiamo a costruire subito all'interno dello spawn Perché dobbiamo rendere questa una safe zone, vero Bisolo? E io direi di fare un mini timelapse, te lo passo io? Ti va bene? Se vuoi sì, va bene Perfetto, quindi partiamo subito Partiamo subito Allora ragazzuoli, come prima cosa andiamo a sistemare quello che è il nostro elevatore Fatto in 1.10 di sicuro perché questi bugger sono stati fixati Sì, vabbè sicuramente, infatti non funziona e stiamo andando qua appunto per fare qualche bel fix In verità io non è che conosca ele... Elevatori in 1.12 Quello con i minecart forse è meglio? Right, ok, allora dobbiamo togliere proprio tanta roba Vabbè, neanche tanto, dai ciò possiamo fare No, sicuramente Altrimenti possiamo puntare su quello con gli slime block Altrimenti... no, quello del farmland è stato già fixato in questa versione perché sembra era appunto 2 1.2 esatto, sì sì Quindi niente farmland Ti ricordi quello che abbiamo fatto il video tempo fa? Mamma mia che be' ricordi No, te non te lo ricordi Quello che avevo inventato io, quella farmland che ti teletrasportava Ah, sì 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 come no, la voglia Ecco E no, purtroppo è già stato fixato in questa versione, quindi niente, nada E quindi proviamo a optare per il vecchio metodo dei minecart Sì, quello dei minecart è sempre un metodo funzionale Che cosa c'è su sto piccone? È la madonna! Era il mio piccone da lavoro Ah, grazie Era quello con fortuna però mi sa Sì, quello con fortuna tu ti sei preso il taccino Bravo Esatto Molto bene Infatti sì, ero indeciso se rompere il cosa o meno Mi mancano dei blocchi in verità, sto facendo un bel casino Quasi quasi, fatti un pillar Vieni qua e ci settiamo la home qua sopra Così almeno Sì, forse è il caso infatti Io perché non ho blocchi, non c'è un cavolo Mi lanci tipo dei blocchi da sotto Esiste ferro qua Pillar, 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 pillar Mi sto facendo un pillar per raggiungere Bisolo Eccolo qua Hop, allora Ma io ho buttato qua gli oggetti Come mai te sei salito di là? Perché mi piace passare alle star Beh, io ti direi di farti settare la home in questo modo Sì, esatto Abbiamo qua la home Siamo più comodi Trigger Perché trigger è quello che utilizza Dobbiamo utilizzare per forza trigger Trigger è l'unico comando che possono modificare le persone non hoppate Praticamente Quindi è per questo che si usa quello Sbagliato Sbagliato Set home Set 1 Bim Casa impostata Perfetto Mi sono impostato a casa qua Va bene Bisolo Io faccio tutto Tu piazzi Minecraft Vediamo quanti ne abbiamo Minecraft 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vanno più che bene Tanto ci bastano e avanzano Mi servirebbero delle scalapioni Provedo a farti anche le scalapioni No, i minecart li devi tenertè Sai te che li devi buttare giù Ah, li devo buttare giù in quel senso Buttare giù 27 scale vanno estremamente bene Sì, assolutamente Ok Intanto da notare che sono ancora in minecart Con gli vecchi della 1.10 Sì, esatto Fantastici Centi di minecart Rideable name Bellissimi raga Uno di questi me lo devo tenere però Perché è al ricordo Cazzo Ok Prova a buttare giù un minecart Eh, però aspetta perché siamo in uno Non posso piazzarli Significa io devo prendermi Delle rotaglie Devo prendermi un blocco di Eh, ma che cavolo sto facendo Devo prendermi un blocco Effettivamente è abbastanza complicato No, non è vero Sì, beh, è scomodo Ah, è scomodo per sicuramente Ma porca troia Allora, con calma Emi Allora, questo Poi ci butti sopra una rotaglia qualsiasi Tac Ci butti sopra il minecart E poi rompi il blocco Sa quanto è che non faccio questo tipo di lavoro Ta-daan Bene, ragazzo All'elevatore fatto Mi vai impiegato anche relativamente facile Scendi così, esatto Sì, devi scendere necessariamente Beh, altrimenti Dall'altra parte c'è il grano Perché era la novità di quella versione Tipo che ci avevano messo Che il grano ha servito Bisola se è spostato E ne belly È perché Quale se è spostato? È perché non ce l'avevo messo ancora il blocco L'ha Eh, eh Ah, 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 ah Beh, basta spusciarlo Riusciamo a pusciarlo No, non credo di riuscire a farlo Io sì, invece Ah no spero di sì Ci serve del vetro Ci serve un po' di roba per sistemare Perché effettivamente è stortissimo qua Cazzo va sistemato a sto magazzino Ci stiamo vicino Parkourista Parkourista che cazzo stai a fare Non ce la faccio Bisolo nel mentre che tu fai sta cosa Lo sai che mi metto a fare io? Mi metto a illuminare il mondo Non abbiamo carbone Non c'è il carbone Penso o sta tutto sopra Alla base spaziale Trigger Trigger B7S Feed, game, info, set home Tpacept, tpback, tphome Dove cazzo è tp spawn Sono tp spawn e tp spazio Entrambi che puoi scegliere Esatto infatti Allora vediamo un po' Due pezzi di carbone Ossiana Niente Porca troia Abbiamo pochissimo carbone Vedi che era tutto là Otto torch Sì no che era tutto là Sì però dato che c'è qui il carbone L'ho utilizzato veramente tutto Per fare le porte Quasi quasi io Una porticina La abbatto E mi prendo il carbone No eh Una porticina? Che porticina? Non lo so Bis come è che porticina? Bisolo Bisolo mi deludi Bisolo Quale porta? Dello spazio Sono tutte fatte di carbone Ah vero Giusto Prendo tutto da lì Se fosse concrete Però effettivamente a concrete non esisteva Eh no No necessariamente Quindi mettiamo concrete Magari anche là dal play bottom No Esatto Io ho tipo una mini mod client Che mi mostra la luminosità Sopra il blocco Mi scrive il numero della luminosità Ok Buono Perfetto Guarda 12 pezzi 12 blocchi di carbone Che significano ben Uno stack e 44 di torce Di carbone Quindi Una cosa tipo Occhi e croce 7 stack Oh mamma Di torce Vai baby Come on Bisolo Sei un mostro Legolas Cosa vedi con quegli occhi Oh che stile Bacca il beacon Qualcuno si è fregato già il beacon Come si è fregato il beacon Oh Ma che Ah regà Che c'era il beacon dell'Italia qua Cazzo hai ragione E mangi Che c'è entrato qui dentro Scusa Ma sai te l'hai portato su uno spazio Bisolo vieni qua Bisolo Ah si si è vero L'ho portato su uno spazio Bisolo Tienisi le torce Oh grazie Mi reprego Torce everywhere Torce fottutamente everywhere Non deve spawnare nessuno qua È fondamentale Quindi Lo mettiamo con un pattern Come stavamo facendo Oppure lo metti totalmente a caso Come il tuo solito Pattern Con un pattern regolare È carino Ce l'avevo L'ho fatto una roba simile Ok io metto invece a caso No dai Mi mi ha sfasi È brutto Ma no Perché dentro casa Com'è che faccio mantenere Dentro casa fotte sega Fuori pattern No La cassa non si apre più Quella del minecart Te la ricordi? Eh no Da monaviglia Non si apre Eh si però Prima funzionava Quando eravamo in quella versione Ma comunque non era un pattern Ma comunque non era un pattern Assolutamente Erano tutte torce a caso No No è un pattern Guarda No 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 Semplicemente Ogni Due Blocchi C'è la torcia O di due blocchi C'è una riga di torce Dove ho sbagliato Ma ci sono uno di spazio No ogni due rispetto alla fila Alla colonna Quello che ti pare Ah ok Vai Bisolo vai Racconta Eh qua nei commenti dovete indovinare Qual è questo circuito che si nasconde in questa porta Quale porta? Mamma mia Quella lì Ma non te la ricordi? Eh me la ricordo sì Mamma mia che assurdo Però può essere fatta meglio assolutamente No ma di Non facciamo riferimento alla stessa cosa Probabilmente Questa qua non lo so È una farm di legno Questa qua Questa è la farm di legno Ma non funziona adesso Guarda Questa qua Ma sì ho capito Me la ricordo Ma c'erano stati tanti circuiti lì eh Appunto C'è te che ti ricordi E li ho fatti lì anch'io guarda Te li ho anche griffati una volta Appunto è quello che intendevo io È stato forse il video più famoso del mio canale Davvero? Wow Sì tipo scherzo epico a fear gaming finito male Dove laggavo perché ero dal portatile ancora Ma pensa Ah qui abbiamo sistemato dai Che non ci dovrebbero essere grandi problemi di luminosità Eh qua tutta quanta la costa è tutta quanta spawnabile Ok cazzo La costa è tutta spawnabile Sì va qui facciamo le mura Chiudiamo Ho finito le torce che mi hai dato Chiudiamo bis qua chiudiamo Vieni qua Ma io volevo riempire tutto quanto il mondo di torce Assolutamente sì tutto il mondo Che sai quanti blocchi sono bis tutto il mondo? Eh 6 milioni per 6 milioni penso in questo momento Controllo slash Non so quanto è grande No perché poi comunque hai anche la parte negativa Non so Puoi andare a È veramente Adesso è 60 milioni per 60 milioni Quindi in tale No Cioè 60 milioni per ogni lato 60 milioni Quindi sarebbe un 200 120 milioni Oh mi sta qui per 120 milioni di blocchi quadrati No 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 120 per 120 120 milioni quadrati Per 120 milioni 120 milioni al quadrato La cosetta tranquilla E' più o meno Che cosa? Così a naso L'ho capito? Quanti blocchi di superficie ci sono Aspetta no 120 per 120 La musica La musica non c'era Allora raga comunque qui Ecco la casa moderna è abbastanza spawnabile Raga ma guardate quanto è intasato Oddio Fino a dove è intasato? Fino a qui ho trovato l'ultimo hopper bis Gli ultimi hopper insomma Vabbè Penso sia abbastanza intasato sinceramente Vai sì dobbiamo mettere Vabbè in verità qui puoi tipo rompere la cosa E' risolto Eh qua sotto c'era un dropper Vedi dove sta Sì sì C'era il dropper Io lo tolzi perché Ci ho buttato Bravo sì esatto Proprio le teste Assolutamente sì Eh cosa facciamo allora? Mettiamo il dropper Vabbè possiamo mettere il dropper Ma aspetta Con tutti questo bombille Io direi di fare tantissimi blocchi di bombille E vedere quante casse vengono fuori Sì facciamo Tanto le ossa in sé non ci servono Va bene prendo tutte le ossa Iniziamo a prendere ossa Eh sono qua sotto le ossa comunque No io bene ho presi una quantità Infinita Ok Vado in giro a prendere ossa Ovviamente L'idea è che io No io ti droppo le ossa Tu le raccogli Fai il bombille Sì il problema è che mi devi droppare Tipo pochi stack di ossa Altrimenti mi si intasa l'inventario Perché ogni stack di ossa Mi dà tre stack di bombille Ok Quindi quello è un po' problematico Io intava e fanculo Ognuno fa per sé Perché sennò facciamo un disastro Ok capito Apriti l'inventario Crafta blocchi E fotte sega il resto Bam Ok Hai ragione È un po' problematica come cosa Ragazzuoli Questo Sono tutti i bone block Che abbiamo fatto Quindi Troppi pochi Cioè calcolate quanta roba c'era È una cosa veramente di smana Poi con la rotten flash Scambi per quanto riguarda i mob Con le frecce e bisolo Preparati perché facciamo i sistemi di difesa Ok Contro uno di voi Poveri player Con la polvere da sparo Con la polvere da sparo Altri sistemi di difesa E razzi Con il resto Non lo so La redstone Vabbè Solida redstone Poca Veramente poca Perché l'abbiamo sfruttata troppo E per il resto Boh non lo so Non so che cosa altro mettere Comunque per il momento Ragazzuoli ci siamo Bisolo io penso che per questo video Vorrei usare Possa essere tutto Abbiamo sistemato L'elevatore Abbiamo craftato i bone block Abbiamo illuminato la zona Abbiamo fatto Che altro abbiamo fatto qua oggi? Oh non mi ricordo In verità abbiamo preso In mano la serie Perché Abbiamo fatto Sempre è difficile iniziare una nuova serie Senza Cioè riprendere una nuova serie In verità Perché non sai mai quello che avevi Come fare Cosa fare Fare le cose Cercare di riuscire a capire Quale ottica stavi usando per giocare Eh insomma Bisogna ci vuole Tempo per riprendere L'unica cosa che dobbiamo fare assolutamente è Come dicevamo prima Il magazzino automatico Sì Non voglio fare un altro magazzino automatico Ci impiegherò vent'anni Lo sai E allora Facciamo uno storage automatico Molto grande semplicemente Perché quelle Oppure magari Invece di fare tutte quante le celle di smistamento Facciamo che Ci sono delle casse E le casse fungono da filtri Ma io No ma invece di fare una roba Il genere Guarda secondo me conviene farlo Non automatico Semplicemente manuale Eh sì Potrebbe starci Però comunque c'è Non mi mettere la roba sopra il monumento Altrimenti spunevano mob Ah ok Cazzo Beh mettiamolo in modo carino Però non mi mettere la roba Così a caso Sopra il monumento Ci ho messo tanto E te le devo spostare E dopo io ripasso E vedi che te le ripiazzo di nuovo Ah perché tu necessariamente Sei parento di un automa Tu vai E se trovi un punto dove spawnano i mob Ci piazzi la torcia Va bene Ragazzuoli Ragazzuoli Vi ringrazio Passate sul canale di Bisolo Tanto questa serie La facciamo in due Io e lui Se lo convinco Fa episodi anche sul suo canale Ma c'è Agli episodi Agli episodi pronti Fino a dicembre Probabilmente Esatto Quindi vedrete gli episodi Solo da me Vabbè Niente Io Che vi devo dire Ragazzuoli Vi ringrazio per la visione Un bel mi piace Passate sul server Stronzo Basta Ci gioco più Mi uccide La seconda volta Mi uccide Ciao a tutti ragazzi Saluta Bisolo Ciao Aspetta Dov'è che sei adesso